... ... ... ... ... ... ... ... Dov'è andata? Lo sanno? Via, lontano. Tutti spariti. Non sente il silenzio che c'è? Una perfetta operazione chirurgica. Ogni cosa è stata asportata. Più niente che dolga. Più niente che sanguine o palpiti. C'è veramente un grande silenzio. Nel suo genere è un capolavoro, professore. E qual è la punizione? Qual è? Non saprei. La solita, immagino. Cosa sarebbe la solita? Chiaro, la solitudine. La solitudine? Esatto. La solitudine. E non vi sarà clemenza? Non lo chieda a me. Non è compito mio. La solitudine. La solitudine. La solitudine. La solitudine. Grazie a tutti.